Dottore, dottore, scusi, buongiorno, avrei bisogno di un consulto, io avrei un figlio e non riesco ad uscire incinta Non riesco? A uscire incinta A uscire, cioè incinta, di vero? E vabbè, non è che qui, cioè, voglio dire, vediamo adesso che cosa si può fare, andiamo in ambulatorio, magari si mette sul lettino, si spoglia e così vediamo il da farsi Dottore, che cosa mi devo mettere sul lettino, mi devo spogliare? Io il figlio lo vuol con mio marito Reputo Uccio, insomma, un comico irriverente, molto bravo e quindi sicuramente non mancheranno le risate quella sera L'appuntamento è domenica, domenica questa, 9 giugno, alle ore 21 all'Arena delle Rose Ci sono ancora, insomma, qualche biglietto disponibile in prevendita, lo ricordiamo, fino a sabato il biglietto è di 12 euro La domenica costerà 16 euro, diciamo che, di non mancare, perché ci saranno, insomma, barzellette, sketch Oltre a Uccio De Santis, Uccio sarà affiancato da Antonella, Antonella Genga La domenica costerà 16 euro, diciamo che, di non mancare, ci saranno, si sono La domenica costerà 16 euro, diciamo che, di non mancare, ci saranno, si sono